Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial dedicato al mondo Macintosh. Allora, abbiamo fatto l'installazione di Big Sur, a questo punto possiamo andare a dare un'occhiata a alcune delle caratteristiche principali di questo nuovo sistema operativo, che introduce molte novità rispetto alle versioni precedenti. Una delle principali, ed è quella a cui sarà dedicata questa particolare sessione, è il Control Center, il centro di controllo. Abbiamo una nuova icona, come si è già detto quando è stato presentato Big Sur qui nella barra dei menu, vedete, che porta alla luce il centro di controllo in puro stile iOS, quindi chi è abituato a utilizzare un iPhone non avrà, secondo me, troppa difficoltà ad abituarsi a questo tipo di centro di controllo, perché bene o male è sulla falsariglia di quello di iOS. Ma ne parliamo, come al solito, dopo la nostra sigla. Che cosa abbiamo nel centro di controllo? Abbiamo tutta una serie di funzionalità che possono essere richiamate con un click. Vediamo un po', se io apro il centro di controllo, vedete, abbiamo una sezione qui che è dedicata per lo più, diciamo, al network, alla connettività, quindi abbiamo il Wi-Fi, il Bluetooth e AirDrop. Per ognuno di essi possiamo accenderlo o spegnerlo, attivarlo o disattivarlo con un semplice click, in questo modo, vedete, ecco qua, ma se noi clicchiamo su questa piccola freccia che compare su ognuno di essi, possiamo andare nelle preferenze particolari di questa particolare funzionalità. Per esempio, Wi-Fi, abbiamo, diciamo, la linea che possiamo accendere o spegnere, possiamo scegliere il nostro hotspot personale con l'iPhone, possiamo cercare altre reti, eccetera, eccetera. Per tornare alla schermata principale delle preferenze del centro di controllo, dobbiamo cliccare qua sul nome della preferenza, oppure direttamente sull'icona di centro di controllo. Quindi, come dicevo, se clicchiamo sulla piccola freccia qui vicino alla funzionalità, accediamo al menu di quella singola funzionalità, oppure ci porta direttamente con un link alle preferenze di sistema di quella particolare funzionalità, come vedete. Lo stesso abbiamo qui, non disturbare, vedete, possiamo attivarlo o disattivarlo con un solo click e possiamo cliccare sulla freccia per accedere alle sue funzionalità dedicate. Possiamo attivarlo per un'ora, fino a stasera, fino a domani, oppure tenerlo sempre attivo. Oppure possiamo andare nelle preferenze delle notifiche, sempre nelle preferenze di sistema. Luminosità della tastiera. Come vedete, qui abbiamo semplicemente uno slide, dobbiamo semplicemente decidere qual è la luminosità che ci aggrada di più, oppure possiamo andare anche qui in preferenze della tastiera. Come vedete, ogni singola tab ha un rimando alle preferenze di sistema. Duplica schermo. Qui vi fa vedere su quale schermo possiamo duplicare il nostro monitor del computer. Ovviamente andiamo nelle preferenze monitor e se non ci sono altri schermi, come in questo caso, ovviamente non compare niente, altrimenti comparirebbe una lista di schermi disponibili, tipo secondo schermo, Apple TV, eccetera, eccetera. Schermo, appunto, luminosità dello schermo, oppure freccia per andare nelle sue funzionalità. Anche qui vedete, possiamo attivare o disattivare il True Tone, il Nice Shift o la modalità scura. Possiamo scegliere modalità scura e modalità chiara con un clic. E anche in questo caso, ovviamente, abbiamo le preferenze del monitor all'interno delle preferenze di sistema. Poi abbiamo qui sotto, diciamo, un resoconto dell'ultima cosa che è stata riprodotta nell'applicazione Musica e queste sono, diciamo, le tab di base del centro di controllo. Ora, come si è già capito, presumo, il centro di controllo, tra le altre cose, ha la funzione anche di raggruppare in un'unica icona, quella del centro di controllo appunto, tutta una serie di icone che prima comparivano nella barra dei menu, occupando ovviamente spazio. Ora, specialmente se uno ha un laptop e quindi ha uno schermo relativamente piccolo nei confronti di un computer desktop, questo potrebbe essere molto utile. Dall'altro canto, però, ci sono alcune funzionalità che io trovo abbastanza scomode da raggiungere in questo modo, perché quante volte ci è capitato che non si sa bene da dove parte un filmato in riproduzione automatica a tutto volume e all'improvviso ci sentiamo spaesati, oddio, devo abbassare, devo abbassare, devo abbassare e andiamo a cercare l'icona del suono. Era abbastanza utile poter avere un tasto come quello del suono disponibile con un solo clic. In questo caso, invece, ti devi ricordare dov'è e fare prima clic sul centro di controllo e poi sulla barra del suono. Quindi io, per esempio, il suono è una cosa che vorrei avere nella barra dei menu. Che cosa devo fare? Devo semplicemente fare clic sulla tab e trascinarla dove voglio nella barra dei menu, come vedete. Diciamo che la voglio mettere qui. Ecco. E adesso abbiamo la tab suono direttamente nella barra dei menu. Un'altra cosa che a me piace avere sotto mano è il Wi-Fi. Anche qui, semplicemente, io cosa vado a fare? Clicco sull'icona e la vado a trascinare nella barra dei menu. Ecco qua. Ovviamente, nel caso volessimo rimuovere qualcosa dalla barra dei menu è altrettanto semplice, perché basta tenere premuto il tasto Command e andare a fare clic sull'icona che vogliamo rimuovere, come in questo caso il suono, per esempio, e la trasciniamo in un punto qualunque del desktop e poi rilasciamo. Ecco qua. Ovviamente poi se la vogliamo rimettere si fa la stessa cosa. Andiamo a cliccare sulla tab suono e la riportiamo nella barra dei menu. Vedete, è estremamente semplice. Un altro modo per avere accesso alle preferenze di tutti questi pannelli qui, perché questi sono semplicemente quelli di default, ma il centro di controllo può essere personalizzato, non solo nello scambio tra centro di controllo e barra dei menu, ma se noi andiamo nelle preferenze di sistema e nella tab Doc e barra dei menu, vedete che qui di fianco abbiamo Doc e barra dei menu, eccetera, eccetera, ma qua sotto nella barra laterale c'è tutta una sezione che si chiama centro di controllo e se noi clicchiamo su una qualunque di queste opzioni ci mostra la sua situazione con tutte le sue opzioni. Vedete, è questa zona qui del centro di controllo, il controllo si trova qui ed è anche presente nella barra dei menu ed è anche da qui che possiamo con un clic mettere o rimuovere una particolare funzionalità dalla barra dei menu stessa per Bluetooth, anche qui mostra nella barra dei menu oppure no, AirDrop mostra nella barra dei menu oppure no, Non disturbare, possiamo scegliere di metterlo nella barra dei menu o no, e se c'è possiamo scegliere che sia sempre attivo oppure solo quando il Night Shift è effettivamente in funzione. Poi abbiamo luminosità tastiera, anche qui mostra nella barra dei menu, duplica schermo, schermo, eccetera, eccetera. Vedete che normalmente le opzioni sono sempre o semplicemente mostra nella barra dei menu, quindi o sì o no, oppure per alcune funzionalità c'è la possibilità, come vedete, di essere mostrate nella barra dei menu solo quando l'opzione è attiva, oppure anche sempre. Questo dipende ovviamente dalla funzionalità, non sono tutte uguali. Poi sotto abbiamo, dove dice altri moduli, tutta un'altra serie di funzionalità che possono essere aggiunte al centro di controllo se così ci aggrada. Per esempio per l'accessibilità abbiamo non solo mostra nella barra dei menu, ma anche mostra nel centro di controllo. Possiamo scegliere se mostrarlo in uno, in tutti e due o in nessuno dei due. Lo stesso dicasi per la tab batteria. Abbiamo non solo nella barra dei menu e in centro di controllo, ma anche la percentuale. Cambio utente rapido, mostra nella barra dei menu e mostra in centro di controllo. Oppure abbiamo tutta una serie di opzioni che sono presenti solo per la barra dei menu, quindi non possono essere aggiunte al centro di controllo, ma sono disponibili solo per la barra dei menu. Tra questi la funzione orologio, la spotlight, Siri e Time Machine. Quindi vedete, nella tab dock e barra dei menu delle preferenze di sistema, abbiamo oltre alle preferenze del dock e della barra dei menu, abbiamo anche tutta una serie di comandi per il centro di controllo in generale, per moduli aggiuntivi al centro di controllo e per moduli che sono esclusivi della barra dei menu e non per il centro di controllo. Ma come vedete è facilmente personalizzabile in tantissimi modi diversi. Io vi invito a darci un'occhiata e a imparare a conoscerlo. Ripeto, se voi avete un iPhone sicuramente non farete molta fatica ad abituarvi, perché la grafica, le funzionalità, il concetto sono quelli del centro di controllo di iOS. Ma se non avete un iPhone magari ci vuole un po' più di tempo e l'importante è che voi sappiate che in buona parte il centro di controllo e la barra dei menu sono personalizzabili scegliendo dove, come e quale funzionalità mostrare o meno in ognuno di essi. Io spero che questa cosa vi sia utile, perché il centro di controllo è sicuramente una delle innovazioni principali di questa nuova edizione di macOS. Mi sembrava quindi giusto dedicargli uno dei primi video dopo l'installazione di Big Sur, vera e propria. Fatemi sapere che cosa ne pensate, che cosa ne pensate del centro di controllo? È utile, non è utile? Vi piace così com'è? Che cosa ci avreste messo che non c'è? Eccetera, eccetera. Sono molto curioso di sapere le vostre opinioni. Per adesso io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima sessione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!